Non devi guidare, vero? Solo un po' sono le renne a fare tutto il resto. Questo è il mio quarto anno come Babbo Natale. Tu invece? Ho iniziato io tutta questa storia. Ho, ho, ho! È Natale! Abbiamo deciso che puoi avere un regalo in anticipo. Che cos'è? Questa è una linea diretta con Babbo Natale in persona. Posso parlare con lui? Va bene, festaioli. Benvenuti al vostro peggior Natale. Andiamo! Avete 300 milioni di dollari nel vostro cavolo. Ecco cosa desidero per Natale. Io non voglio problemi, ok? Me ne andrò via su per il camino. Chi è? Non è uno da centro commerciale. Mi senti, Babbo Natale? Papà ha detto che eri impegnato stanotte. Mi chiamo Trudy Lightstone. Ci aiuterai, Babbo Natale? Sì, Trudy. Sei tu! Sei sulla lista dei buoni. Babbo Natale arriva in città. È il momento di un po' di botte natalizie. Che diavolo sei? Capo, e se fosse veramente... No! Babbo Natale non esiste! Queste persone... sono sulla mia lista dei cattivi. Questo è da cattivi! E tu che cosa dai ai cattivi? Un pezzo di carbone. Ma che cos'è? Devo guardare. Bomba! Io credo in te, Babbo Natale. Andiamo. Chi è di voi che l'ha fatta? Prenzer? Davvero poco professionali. Controlfinale non esiste! Eh sì! though fight è fede. Grazie a tutti